Questa sera siamo vittoriosi 3 a 2 su Benizzole, direi molto bene, i primi 3 set alternanti, il terzo set molto male noi, ci siamo fatti prendere la paura, mentre il quarto abbiamo preso coraggio e il quinto devo dire che abbiamo dominato per bene. Oggi ho qui con me il nostro capitano e giocatrice esperta e palleggiatore, Clara, alla quale pongo alcune domande. Sono pronta, sono pronta, sono pronta, in cuffia. Allora, vengo io. Dimmi tutto! Beh, come ti sei trovato con le compagnie in una situazione di tensione? Allora, non arrivo a fine anno, l'ho già dichiarato perché loro gridano come delle pazze, io li vado dietro ma non ce la faccio, quindi vabbè. Però sono molto contenta perché hanno reagito tutte bene e il problema generalmente delle squadre giovani è questo, che quando le cose vanno bene va bene, quando magari vanno male si cala, però la reazione è stata ottima e quindi super. Brava! Hai visto? Ok. A livello di alzate e i tempi con i centri, ho visto delle belle cose, magari qualche palla un po' imprecisa per quanto riguarda la fast? No. No, con i centri sono contenta perché soprattutto secondo me C2 e Ilaria è andata veramente bene e loro erano anche impreparate a quanto pare col gioco dei centrali, quindi abbiamo calcato un po' la mano quando è stato possibile e abbiamo fatto credo anche parecchi punti. Quindi bene. Ma anche Piantoni hai giocato bene? Sì, so. Però poi Piantoni si monta un po' la testa. Ah ecco, allora no. Tu che vivi sempre la seconda palla, come hai visto il primo tocco, quindi la ricezione in generale? Ma io la cosa che dico sempre e ho sempre detto alle mie compagne è che l'importante è non prendere ace, poi si sistema tutto, quindi tutto quello che rimane in alto, in aria va bene. Sì, e devo dirti la verità che io sono anche abbastanza contento perché in una palestra così grande, dopo che ci siamo allenati per parecchi mesi in una palestra piccolina, saper comunque ricevere con una buona percentuale, perché questo mi è stato dato poi gli scadoni ancora visti, devo dire che sono stati bravi e hanno subito qualche ace, anche hanno dato qualche palla un po' difficile attaccata a rete, però tutto sommato devo dire che sono stati bravi. Bene, allora? Ci vediamo giovedì allenamento e sabato in casa. Poi giovedì allenamento! Ok. Saluti! Ciao!